Come pensa di risolvere la disoccupazione dei giovani innanzitutto? Bisogna mettere questi ragazzi disoccupati a comandare. Dove l'idea di dare lavoro ai giovani. Io ho dei figli laureati disoccupati, con 110 e 1. So benissimo quali sono i problemi che affliggono oggigiorno gli studenti. Io sono in procinto di laurearmi, quindi capisco quali possono essere le difficoltà nel terminare gli studi e poi entrare nel mondo del lavoro. Proprio perché siamo consapevoli, siamo coscienti di queste difficoltà che gli studenti affrontano quotidianamente, ci faremo portavoci in Parlamento di tutte le istanze, degli studenti, dei giovani lavoratori precari in modo da dare stabilità e certezza per il loro futuro.